Stefano Parri, sessantesima edizione della mostra nazionale del tartufo bianco, un numero direi abbastanza importante. Sì, un numero importante, siamo per longevità i primi delle marche e siamo in Italia i secondi sola d'alba. Una ricorrenza importante che mette insieme tutto il territorio di Sant'Angelo in vado, tutti i soggetti che negli anni hanno contribuito al successo di questo evento. Sì, sono 46 anni quest'anno che siamo qua a vendere i tartufi, speriamo di durare altri 46 anni ancora. Sant'Angelo in vado che è parte di un territorio molto fortunato nelle marche perché abbiamo tartufo di qualsiasi tipologia ma anche quasi tutto l'anno praticamente. Sì, i tartufi ci sono tutto l'anno, bianchi, neri, bianchetti di diverse varietà in diversi periodi della stagione, ci sono sempre, voglio dire, tranne due mesi che c'è un po' di fermo biologico cosiddetto. Quest'anno la stagione è partita un po' meglio rispetto all'anno scorso, per le piogge probabilmente di giugno, quindi il prodotto è discreto, ce n'è come quantità discreta, la qualità è ottima e buona e anche il prezzo rispetto agli altri anni è un po' più basso, quindi può essere degustato quasi da tutte le persone. Offriamo una serie di eventi, non solo di tipo gastronomico, chiaramente il fulcro è quello lì, però Sant'Angelo offre anche un patrimonio culturale e anche ambientale di particolare pregio e rilevanza. Quindi tutti quelli che vengono a Sant'Angelo possono usufruire di questo territorio a 360 gradi, del buon cibo, passeggiate, escursioni, chiese, monumenti, domus. Sant'Angelo in Vado è un luogo veramente ricco, noi abbiamo una storia millenaria perché partiamo con una città romana che era la Tifernum Mataurense dove invito tutti a venire a visitare la Domus del Mito che è uno dei ritornamenti archeologici più belli d'Italia e sono 1200 metri quadrati di mosaici bicrome e policrome, veramente di una freschezza, una bellezza più unica che rara. Dopodiché abbiamo tantissime chiese, abbiamo tantissimi musei perché comunque siamo sempre stati una città legata al mondo della cultura, al mondo dell'arte, al mondo della chiesa. Quindi le numerose chiese che abbiamo sono già di per sé loro contenitori di grande bellezza ma contengono in più anche mostre d'arte in questo periodo che veramente arricchiscono ancora di più quello che è una ricchezza naturale del luogo. Il piacere e l'onore di avere ai nostri microfoni Mauro Iassi, una delle eccellenze del territorio, titolare del ristorante Iassi Tre Stelle Michelin. Oggi riceve un premio che va ad aggiungersi ai tanti premi della carriera e cioè il tartuffo d'oro qua a Sant'Angelo in Vado. Siamo onorati, siamo felici, abbiamo il cuore in festa perché ogni volta che ti premiano in modo inaspettato, quindi c'è la sorpresa, c'è la meraviglia, uno non può essere che contento. Sant'Angelo è un posto bellissimo che già conoscevo, famoso per il tartuffo ma anche proprio per come è fatto il paese. Ripeto, siamo nel senso che io sono Mauro Iassi, proprietario del ristorante di Simeone Sorella, ma in realtà è un gruppo di circa 40 persone per cui questo è un premio che va a tutto quanto al ristorante.